Questo video mi è stato suggerito da un amico che vive in montagna qui vicino. È un video utile che tra l'altro mi riporta alla mente anche una cosa che capitava spesso anche a me quando avevo azienda agricola in montagna. In autunno succedeva spesso che trovassi gente che passeggiava allegramente sul mio terreno raccogliendo castagne. Non sempre riuscivo a vederli perché c'erano boschi e diversi sentieri, ma quando riuscivo mi avvicinavo, li salutavo, facevo qualche chiacchiera e poi gli dicevo quando avete finito venite da me così le pesiamo, le vendo a 5 euro al chilo. Ti lascio immaginare cosa succedeva. Qualcuno rideva pensando che stessi scherzando e proseguiva imperterrito nella raccolta mentre la maggior parte aveva reazioni di sorpresa, a volte anche piuttosto incazzate. Pochissimi si scusavano. Insomma, la maggior parte dei classici escursionisti riteneva fosse un loro diritto rubarmi le castagne. Ma ti sembra normale? Se ho un bosco di mia proprietà, piccolo o grande che sia, solitamente non creo una recinzione per impedire l'accesso. Al massimo metto qualche cartello. Però è mia proprietà e tu non puoi entrare a raccogliere castagne, noci o altri frutti senza la mia autorizzazione. Purtroppo moltissimi non concepiscono questo semplice dato di fatto e pretendono di avere ogni diritto in casa altrui e sui prodotti altrui. Tu lo sai che raccogliere castagne o altri frutti su una proprietà privata è un reato che può essere punito, come dice il codice penale, oltre che con sanzioni, anche con reclusione da sei mesi a tre anni? Raccogliere castagne senza autorizzazione è un furto! Fine! La legge dice che tutti i frutti caduti sul terreno appartengono al proprietario del fondo. Anche se un bosco può sembrare proprietà di tutti, molto spesso non è così e non vale nemmeno la scusa di dire che non c'erano cartelli, perché il proprietario non è obbligato a mettere cartelli o addirittura a delimitare un'area. È l'escursionista che deve informarsi se un bosco è privato prima di entrare a raccogliere castagne o altro. Se non lo fai e poi ti capita che il proprietario ti becchi e ti faccia pagare le castagne come facevo io, devi solo scusarti e pagare. Non hai nessun diritto, tantomeno quello di inveire o aggredire. Quindi, prima di entrare in un bosco per raccogliere castagne, informati presso qualche autorità o chiedi agli abitanti locali. Se poi raccogli in un bosco pubblico, tieni conto che esistono quantitativi massimi che si possono raccogliere giornalmente, come per i funghi, per i quali tra l'altro, così è sempre necessario un'apposita autorizzazione che si paga. Le normative sulla raccolta delle castagne sono diverse in ogni regione. Quindi, informati anche sul quantitativo giornaliero consentito. Fine del messaggio di pubblica utilità. Metti un like e condividi questo video, che può essere utile a molti. Se non conosci il nostro canale YouTube a Rurale Digitale, tocca questo logo per visitarlo. Se gli argomenti trattati sono di tuo interesse, iscriviti al canale e attiva le notifiche, così saprai quando pubblicheremo altre informazioni utili. Ti suggerisco anche di guardare questo video. E se vuoi contattarci vai sul sito ruraledigitale.it e se vuoi contattarci vai sul sito rurale. Grazie. Grazie.